Living in Japan, vi ricorda qualcosa? Sicuramente sì, 1985, su etichetta X-Energy Records esce. Living in Japan, eccolo qui il disco, lo vedete? Le Fan Fan, con la voce di Antonella Pepe e Angela Parisi, prodotto da Dario Raimondi e Alvaro Ugolini per la Energy Production, arrangiato da Paolo Gianolio, demixato da Alvaro Ugolini, con la cover bellissima di Massimo Kastler. Living in Japan, andiamo a vedere il vinile, con il lato A, la versione vocale, e il lato B, la versione strumentale. Eccolo qui, il vinile tutto nero, bellissimo, 1985, Living in Japan, le Fan Fan. Eccolo qui, il vinile tutto nero, bellissimo, Eccolo qui, il vinile tutto nero, bellissimo, Living in Japan.